Siracusa, terremoto e piani di evacuazione della città, sito comune irraggiungibile, Ponzio, Fratelli d'Italia, informazione assente per cittadini. La scossa di terremoto dell'altra notte accende il riflettore sui piani di evacuazione della città di Siracusa. Ad affermarlo è Samantha Ponzio, presidente del circolo Fratelli d'Italia di Siracusa a Treio. La cittadinanza è all'oscuro sull'esistenza di una mappatura pubblica delle vie di fuga in caso di calamità naturale. Evidentemente manca la comunicazione chiara ed efficace con i cittadini sul comportamento da tenere in caso di catastrofe naturale e non mi riferisco solo alle prove di evacuazione scolastica che per fortuna sono organizzate frequentemente dai dirigenti scolastici dei vari istituti. Mi chiedo inoltre, prosegue Ponzio, se gli stessi cittadini siano a conoscenza attraverso una mappa pubblica e non solo sui siti online anche perché proprio questa sezione, nuovo piano di protezione civile comunale della città di Siracusa, è dedicata e risulta irraggiungibile dei punti di raccolta. E cosa più importante, se è stato aggiornato dal 2019 il censimento numerico dei disabili gravi, nel frattempo continuo a Ponzio, consiglio di creare anche quello per anziani e donne sole con bambini in caso di immediata evacuazione. Noi ci auguriamo sempre di non utilizzare mai questi strumenti ma nel caso in cui dovesse succedere una catastrofe vorremmo tutti essere informati e preparati con il piano di prevenzione sempre aggiornato e diffuso, conclude Samantha Ponzio. Grazie. Grazie a tutti.